Musica Si apre con la cronaca questa nuova edizione delle nostre breaking news incidente stradale nelle prime ore della mattina Sulla strada che da Ceciliano va verso Patrignone a seguito dell'impatto una donna di 44 anni è stata trasportata in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica oltre ai volontari della misericordia di Arezzo Presenti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi Cambiamo argomento perché Orgoglio Amaranto si prepara alla festa che da venerdì 5 a domenica 7 luglio animerà il Parco del Bagnoro Cucina tipica, musica dal vivo e dibattiti con focus su azionariato popolare, tifoserie e anche il primo incontro ufficiale con il mister Emanuele Troise e alcuni giocatori Amaranto Ed infine un'altra iniziativa con musica, astronomia e teatro tutto sotto le stelle Dal 4 luglio al 28 settembre tornano le serate di Castelsecco con un programma davvero ricco di appuntamenti Vi ricordo in chiusura il nostro sito teletruria.it per continuare a rimanere informati